Da pochi mesi ho l'opportunità straordinaria di vivere questa esperienza al Parlamento Europeo. L'Europa è per tanti di noi un qualcosa diverso da noi, un soggetto terzo. In realtà l'Europa siamo noi, l'Italia è fra i fondatori dell'Unione Europea. L'Europa è in crisi perché manca la fiducia e la speranza. Con questo appuntamento voglio anch'io, chiamato in dialogo per l'Europa, contribuire a riallacciare un rapporto positivo di fiducia verso l'Europa. L'Europa è un oggetto misterioso. Da noi si dice in Romagna spesso il sacco delle botte. Quando non sappiamo chi dare la colpa per i problemi, i ritardi, le difficoltà, diamola all'Europa. L'Europa non la difende nessuno perché non ha un volto. In realtà già oggi la nostra vita è regolata in larga parte da scelte, leggi, voti che avvengono a Bruxelles e a Strasburgo. Il 70% delle norme vengono stabilite a livello europeo. Per cui bisogna riavvicinare l'Europa ai cittadini, alla gente. Un'Europa anche poco democratica. Spesso le scelte vengono prese ancora troppo dai singoli Stati membri. Bisogna dare più forza ed energia al Parlamento europeo. Mi occupo di questi temi fondamentalmente. Sono componente della Commissione Ambiente che tratta tutte le questioni ambientali. L'aria, l'acqua, i rifiuti, il clima. Fra un po' ci sarà la conferenza di Parigi. Dove temi su cui l'Europa decide veramente. Faccio parte anche della Commissione Regi che tiene le relazioni con i territori comuni, le regioni. E che tratta dei fondi strutturali. Poi sono componenti di due delegazioni che curano i rapporti con i paesi extraeuropei. L'Iran, questo paese che dopo gli accordi sul nucleare, gli accordi di Vienna, rappresenta per tanti un'incognita e anche un'opportunità. E sono inoltre vicepresidente della delegazione che cura i rapporti con il Canada. Ho scelto anche di aderire ad un intergruppo di cui fanno parte parlamentari di diversi paesi e di diverse idee. che si chiama Intergruppo Bambini, perché credo che bisogna ripartire proprio di lì. Il nostro compito è di valutare l'impatto che hanno le nostre scelte, i nostri voti, i nostri voti sui bambini, sui nostri figli, sui nostri nipoti. Se lavoriamo bene per loro, lavoriamo bene per il futuro di tutti noi. Dicevo, rispetto all'Europa c'è un atteggiamento schizofrenico. Spesso è la causa di tutti i nostri mali e un minuto dopo si chiede all'Europa fondi, risorse, soldi per progetti ed iniziative. Una delle richieste che ho avuto più spesso in questi mesi è come accedere a questi fondi, se sono disponibili e le modalità. Proprio per questo ho prodotto una pubblicazione, che è un vero e proprio manuale, una guida ai fondi europei. È possibile averla, richiederla, accedere a questa guida online sul mio sito www.damianosofoli.it o mandare una mail all'indirizzo www.damianosofoli.europarl.euro.eu È una guida molto utile perché, ripeto, ci sono le opportunità, le risorse, e sono tante anche per i nostri territori, per la nostra Romagna. Spesso non riusciamo ad utilizzarle, a sfruttarle a dovere. Chiudo con questa riflessione. Quest'Europa, a mio avviso, ha un problema nella testa e nei piedi. Ha un corpo molto grande, spesso obese. Nel corpo ci sono le leggi, i regolamenti. Spesso c'è anche il lavoro nostro di parlamentari, che rimane sconosciuto. Penso soprattutto al lavoro delle commissioni, le direttive. Invece, quello che dobbiamo fare è rilanciare la testa, intendo dire la prospettiva, il sogno europeo, gli Stati Uniti d'Europa, le ragioni per cui l'Europa è nata, ha ragione di esistere e se non ci fosse andrebbe inventata. Quindi l'Europa della speranza. E i piedi, le relazioni, i rapporti con i cittadini, preoccupiamoci che l'Europa incontri la vita quotidiana dei nostri cittadini e che possa dare risposte concrete ai loro problemi.